Comparto agricolo del territorio ionico per l'ennesima volta in ginocchio, pauroso il calo di produzione, meno 40% di uva da tavola e da vino per l'attacco di peronospora legato alle piogge alluvionali e persistenti della primavera e dell'estate, meno 80% nel comparto della produzione olivicola per le infezioni da mosca, anche queste conseguenza del clima particolarmente umido e a causa delle piogge insistenti non hanno avuto miglior esito le coltivazioni di ortaggi marcite sotto l'acqua. In definitiva una situazione drammatica quella che denunciano le associazioni di categoria col diretti CIA e Confagricoltura. Ancora una volta gli imprenditori agricoli non solo non hanno alcun guadagno ma non sanno come pagare i debiti contratti per produrre. Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura. Chiediamo la declaratoria dei contributi agricoli sia per quanto riguarda i lavoratori sia per quanto riguarda i coltivatori diretti e gli IAP. Noi chiediamo ulteriormente che il trascinamento delle giornate lavorative, poi chiediamo il blocco dei pagamenti per quanto riguarda l'IMU, per quanto riguarda i tributi locali che gli agricoltori devono supportare e chiediamo la proroga delle cambiali agrare e dei mutui agrari che gli agricoltori stanno sostenendo.